Ci sarà anche Marina Macete, 28 anni, trans, in gara nella prossima edizione di Miss Universo, che si terrà sabato 18 novembre al Salvador. L'assistente di volo ha appena vinto il concorso di bellezza di Miss Portogallo, che si è svolto a Borba, nella regione di Evora. Marina Macete, che ha una perfetta padronanza della lingua inglese, ha sconfitto le altre 70 concorrenti, e ha conquistato la giuria del concorso anche grazie alla sua capacità di entrare in sintonia con il pubblico. Il traguardo di Miss Portogallo le sembrava un risultato impossibile da raggiungere ma, grazie al sostegno della sua famiglia, è riuscita a superare molti ostacoli che ha incontrato lungo il percorso. Originaria della cittadina di Palmela, nel distretto di Setúbal, Marina Macete, durante la gara di Miss Portogallo, ha sottolineato il suo impegno per la tutela degli animali, e per il diritto della comunità trans di partecipare ai concorsi di bellezza. La filosofia della nuova Miss Portogallo nei confronti degli haters è che l'amore è più forte dell'ignoranza. E adesso continuerà a gareggiare, questa volta a livello mondiale. Sono orgogliosa di essere la prima donna trans a competere per il titolo di Miss Universo Portogallo, ha scritto su Instagram. Per diversi anni non ho potuto partecipare e oggi sono orgogliosa di far parte di questo incredibile gruppo di finaliste. Real Video vi ringrazia per averci accompagnato fino alla fine. Per rimanere sempre aggiornati sui nostri prossimi video, vi invitiamo a iscrivervi al nostro canale e attivare la campanella delle notifiche. Grazie per il vostro supporto.